Spazi abbandonati, piazze vuote, negozi chiusi, strade con buche, asfalto rotto e rialzato. Proprio le vie del quartiere Gratosoglio, nella periferia meridionale della città di Milano, con 12.000 abitanti, da 40 anni non ricevono alcun tipo di manutenzione. Anche i palazzi avrebbero bisogno di essere restaurati, pure le aiuole che ci sono davanti, con blocchi che si staccano e l'erba che raggiunge altezze notevoli. A questo va aggiunto anche il problema dell'amianto friabile, che sarebbe ancora presente nelle colonnine di sostegno delle tettoie di collegamento tra i vari palazzi popolari della zona, ma anche nei rivestimenti degli impianti termici e di quelli idrici. Diversi dei lavori da fare, a partire dalla manutenzione delle strade, spetterebbero all'Aler, che però pare non abbia mai fatto nulla. I residenti sono ormai stanchi della situazione e hanno pensato, per cominciare, di raccogliere più firme possibile per rivolgersi a un avvocato. Non è possibile, infatti, tuonano gli abitanti, avere le strade ridotte in quel modo dopo 40 anni. Anche alcuni ragazzi del quartiere hanno provato a lanciare delle iniziative per rendere partecipi i cittadini e i lavoratori della zona, magari sistemando qualche angolo con fiori e cercando soluzioni agli spazi verdi in generale, che comunque sono presenti ma privi di qualsiasi tipo di cura. Si potrebbero creare aree per gli animali, oppure percorsi per le passeggiate, oltre che spazi di gioco, come un campetto da calcio. Insomma, il quartiere non ci sta e ha deciso di rinascere.